Cosa significa tornare alla Messa? Significa aver bisogno di Gesù, una pace. Io sto bene quando vado alla Messa. Per me vuol dire un momento di partecipazione al popolo che sono cristiano. Appartengo, è questo momento in cui la Messa non è individuale, è di comunità. E quindi la vivo così come l'ha posta lui, la sto vivendo e mi è mancato questa esperienza di comunità. E' una cosa meravigliosa rincontrare Gesù proprio presente nell'Eucaristia nel nostro cuore. Anche se in questo periodo seguendo sempre Papa Francesco al mattino e comunque anche tutte le cose che venivano trasmesse sia nelle Ligure a Sud, sul 2000 eccetera, abbiamo partecipato così in armonia con loro. Però essere finalmente alla presenza di Gesù e Eucaristia nel nostro cuore è stata una cosa veramente meravigliosa. Guardi, soprattutto per noi siamo due catechiste qua a Cristo Re. Le devo dire una cosa, che aver incontrato ora di nuovo, che naturalmente ce l'abbiamo sempre nel cuore, dalla mattina alla sera è sempre, però averlo ricevuto, io ci ho messo anche tutti questi ragazzi che noi abbiamo sempre avuto veramente. È stata una cosa meravigliosa, guarda. E tutte le persone che stanno soffrendo, le persone che hanno bisogno veramente di questo Signore e magari non se ne accorgono neanche, allora le mettiamo tutti nel cuore di Gesù. Dopo tre mesi di astinenza quasi è una bella cosa, è molto edificante e finalmente diciamo che con tutte le dovute precauzioni, con tutti i dovuti crismi però ci voleva, era indispensabile.